A livello statistico, le statistiche riscritte da questa partita, Juventus che non subiva tre gol in un primo tempo in Serie A Team, dall'ottobre 2005, Mila-Juventus che poi terminò 3-1, mentre in precedenza, nell'aprile del 2004 dell'anno prima, la delle Alpi era stato il Lecce a segnare tre volte nel primo tempo con Franceschini e la doppietta di Axel Conan, bestianera dei bianconeri, doppietta anche quest'oggi, quella siglata dal ciolito Giovanni Simeone, problemi intanto per Dani Alves, è necessaria la barella per soccorrere il laterale brasiliano della Juventus. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!